Che poi questa qua, tu la tieni schiacciata, se la fa lui e ti faccia? Perché se tu continui a schiacciare, fai così. Ehi, che cazzo, che cazzo pretendi te? 25 mila euro. No, quando che fai io no? Alla Ile, io no. E cos'è, tu? Dov'è? Sul menù dov'è? Udi! Udi!